sempre e comunque forza napoli un giorno all'improvviso mi innamorai di te buongiorno io e forza napoli mi trovo in macchina perché sono andato a comprare le cigarette quindi lo faccio qua al video mamma mia 20 minuti di sofferenza ma come si fa come si fa una difesa proprio completamente inventato completamente inventato l'uperto e i sami sembra non ci ha capito niente perché affaticamente di mano las tira si tira maximovic gulibali ingiustamente espulso quindi salta per due turni dico ingiustamente perché tutti protestano con l'albitro c'è chi fa di peggio chi è che ci va con la testa vicino all'albitro chi con le mani proprio in un altro pochi in faccia e sapete bene mo togliamo 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 il calcio diciamo il tifo ma fatevi una domanda e datevi pure una risposta sto parlando di bonucci sto parlando come mai bonucci può fare quello che cacchio vuole lui con l'albitro quando sta nella juve però attenzione quando sta nella juve può avvicinarsi con la testa protestare alzare la voce tenere quei toni arroganti con l'albitro mai e dico mai è spulso spogliatevi dai panni dai tifosi spogliatevi per cortesia per un attimo solo spogliatevi lasciamo stare il tifo ma guardiamo in faccia la realtà quando mai è stato spulso bonucci per una protesta all'albitro quando è lui sempre che protesta eppure vivamente eppure eclatantemente e si è visto non è che vi sto a fare vedere ma le foto lo sapete bene ma due giornate di squalifico e poi bonucci nella juve niente manca falla apposta è stato un anno nel milano giusto un anno che gli è successo a bonucci protestando con l'albitro cosa gli è successo e spulso facetevi una domanda e datevi pure una risposta va piacere raga basta la dobbiamo finire con questa ipocrisia basta dovete finirla perché è così due turni di squalifica che poi ha protestato giustamente pure giustamente pure perché prima del gol c'è stato un fallo un fallo eclatante su julio rendo il canto fallo e non mi dite che non è fallo questo perché se tu mi fischi quel fallo l'azione di contropiede del caglio non arriva mai e la partita a me ne finisce in parità non la vai a buttare proprio nel cesso però così è voluto è voluto che andava ma è inutile ma giustamente protestare però c'è chi può e chi non può è inutile e siate pure realisti perché bonucci può con il balino bonucci può bonucci può nella rubendus quando sta nel mina che è stato nel mina non ha potuto è stato ispulso nella juve ma è stato ispulso è una cosa proprio fuori dal comune juve ma è stato ispulso nel mina comandò è ispulso per protesto facetevi una domanda e datevi pure una risposta torniamo alla partita inesima volta vi dico e vi confermo che senza insegno si gioca in amore c'è più fluidità di gioco si gioca proprio in amore mertens liorent al bacio al bacio proprio è inutile che stiamo qua a perdere tempo così si gioca in amore si è visto è inutile che perdiamo tempo si è visto quando c'è lui c'è sta che la squadra non gira non gira la squadra vado un punto punto e basta è mano 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 dei utenti degli amici mi contattano che tu me secondo me secondo me no secondo me ti tengo ragione secondo me tu hai ragione su insegne ma è una vita che ve lo dico volete capire che insegne insegne è quello non andrà non ha margini più di miglioramento l'unico miglioramento è stata la fase difensiva con sarri ha migliorato quello perché prima non la facevo con sarri l'ha migliorato basta più di quello non è insegne è tarato fa questo movimento questo verso destra questo mertens vai giù questo così 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 stamattina l'ho spiegato pure un altro mio amico che ho incontrato qua ad angona e che mi segue su youtube Giuseppe Russo che saluto con un bacio ce l'ho spiegato purtroppo è quello non ha margini di miglioramento insegne chi li è quello è non ha margini di miglioramento insegne fa sto movimento qua questo mertens fa questo fa questo fa questo salta va è inutile che per dimmi se ne capite un po' di calcio mi date ragione perché lo vedete perché così non ha più margini di miglioramento io dico e sono sicuro al 101 per cento che lui a giugno andrà via lui a giugno andrà via a gennaio non penso perché sennò si indebolisce cioè perché è un buon sostituto in campo per me è un buon sostituto perché perché quando sta in forma sta in forma sta in forma è un buon affare assist è un numero uno su questo glielo dico affare ma quando sta in forma ma quando non sta in forma non è buono né a fare assist e né a creare una superiorità numerica è inutile che ne parliamo raga è inutile che ne parliamo oggi una partita dominata per 70 minuti 70 minuti come è saltato un po' ehm manolassi che è uscito per affaticamento muscolare ma che si muovici che si è tirato speriamo che non è nulla di grave vuoi più siamo andati in difficoltà all'anno pure ha fatto la sua partita di lorenzo la stessa cosa ehm oggi quei 20 minuti che abbiamo sofferto come dei maiali che partoriscono allora la musica proprio come la maialina che quando sta per partorire così abbiamo sofferto i 20 minuti e ci aveva una paura tremenda di vivere questo incubo un'altra volta all'ultimo che pareggiavamo 70 minuti dominato specialmente in primo tempo ampettata però non ti parevaали ever track este sempre fluidità di gioco qua quando non ci sta vegetable ma by noi porré non parliamo io scommetto che se stavessi quella fluidità di gioco non c'era non ciò stava perchè egoista non è tanto altrui piano piano mi direte tutti tu me hai raggiunto tutti la difesa siamo dovuti inventare io l'ho perduto e i sai i sai papà la frutta tra vedono pochi fa qualcosa è pure sbagliato ma non è io voglio mettere una cruce addosso perché è un giocatore che gioca con Napoli e non lo voglio criticare giustamente io sto criticando perché effettivamente vi sto facendo rendere conto che chi l'è non ha margine più di miglioramento se sta in forma si fa la partita sua ok ma non ha margine di miglioramento quindi 50 milioni che stanno andando ma vanno subito 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 lo dovevamo andare via 50 milioni perché se non ha margine diciamo se non si mette in forma ma così chi ne manca 50 milioni chiuderanno nemmeno 50 milioni più ci danno questo è il problema comunque l'importante è che abbiamo vinto l'Inter macina a gonfie vele allora a me mi fate arrabbiare quando dite molti di voi dicono che è già la settima giornata di campionato o Scudetto parlate già di Scudetto alla settima giornata parlate già di Scudetto alla settima giornata è ridicolo e vergognoso alla settima giornata per carità vi dico pure questo se l'Inter si allontana ancora di più perché ha 6 punti beh si può fare si può fare quindi ma noi che dobbiamo rincorrere questo è il problema che non dovevamo perdere perché noi dovevamo dobbiamo rincorrere e chi se però perché abbiamo più pressione adesso e il problema è uno solo che a me rincorrere abbiamo più pressione però non possiamo fare più passi falsi perché se l'Inter noi non parliamo di Scudetto adesso perché è ridicolo come vi ho detto però se l'Inter gli dai altri 3 punti e altri 10 punti di vantaggio con Conte che c'ha cazzimma fino nel buco dell'ano cattena 10 punti è difficile che se li fa recuperare devono saltare i propri nervi e un po' e devono capitare quelle 3 giornate storte ma è difficile che Conte si fa si fa recuperare i 10 questa è la mia paura che se vai già 3 punti sopra 9 e là incominci a preoccupare ma a 6 no parlando di Scudetto a 6 no però comunque io mi preoccupo perché questa Conte quest'anno l'Inter è tosta è più tosta della Juve quest'anno ve l'ho detto l'Inter mi preoccupa se prenderà altri 3 punti di vantaggio allora si ma ora parlando a 6 punti di vantaggio e dire Scudetto l'Inter vince lo Scudetto è ridicolo è proprio ridicolo è proprio ridicolo parlare di Scudetto alla settima giornata alla settima giornata vi ricordo che la Juve è vero che era Juve ma la Juve mi ricordo quando le prime 5-6 partite stavano mi sembra 10-12 punti di vantaggio di vantaggio verso la seconda non mi ricordo se era il Milan o l'Inter proprio la recuperò e si mise a 10 punti sopra 15 quant'è quindi ma quale settima giornata a parlare di Scudetto però come vi ho detto se l'Inter prenderà ma pure la Juve prenderà altri 3 punti con il Napoli è tosta proprio cominciamo a sudare proprio perché 9 punti è tosto vuol dire che tu puoi ma già abbiamo pressione sono 6 punti già tu non puoi sbagliare tu già non puoi sbagliare perché stai a 6 punti e là non tu puoi permettere di sbagliare perché se l'Inter vince la partita si mette a 9 quindi l'Inter sta macinando sta macinando io spero che non dura da tifoso avversario spero che non dura parecce ovviamente ma l'Inter fanno il correre io ovviamente se ti fossero un apolo posso mai dire che dovete vincere tutti i partiti se vinci tutti i partiti ha diventato Scudetto normale io vado per me però l'Inter di Conte quest'anno mi fa paura mi fa paura mi fa paura più l'Inter che la Juve quest'anno non so perché ma è così perché Conte da Nacazzim fino a nel buco dell'anno chissi un problema l'importante è aver vinto dopo dominato per 70 minuti però sono offerti gli ultimi come un maiale in pari in sala parte lo mettere pure in sala parte lo porcelino 20 minuti di sofferenza mamma mia ma meno male meno male vado vi saluto un bacione sempre forza Napoli perché tutto riesce a munizzo e sicché ecco Bippo che facciamo Forza Napoli un giorno all'improvviso mi innamorai di te